Continua la messa in sicurezza delle strade comunali del comune di Capaccio Pestum, sono partiti infatti i lavori di messa in sicurezza di via Sabatella-Scigliati. Diamo inizio all'ennesimo lavoro di manutenzione sulla viabilità comunale. Tocca un'altra indecenza alla Scigliati-Sabatella. Io le definisco mulattiere, poiché abbiamo detto qualche mese fa come amministrazione comunale che prima dell'estate avremmo eliminato questa viabilità davvero indegna. Così stiamo facendo. Si tratta di una strada di 2,7 km che verrà interamente pavimentata e quindi lavori di messa in sicurezza, lavori di pavimentazione stradale e soprattutto un'inizione di fiducia nell'ente comune. Perché c'era tanta gente che me l'aveva sollecitata e quando su questo avevo dato assicurazione, poiché tante volte era stata fatta questa promessa, leggevo negli occhi di queste persone l'ingredulità. Invece questa è un'amministrazione che gli impegni li fa diventare doveri. Grazie a tutti.